bene riprendiamo assolutamente adesso lasciamo questo avamposto di ribelli li abbiamo aiutati abbiamo assolutamente aiutati a buttare giù la gunship che ha attaccato adesso noi dobbiamo levarci dai coglioni e se loro ci aprono il cancello e noi possiamo proseguire il nostro viaggio verso le prigioni di nova prospect seguiamo la strada siamo di qui un bel carichino adesso qui se vi ricordo bene sulla costa qui sulla strada ci sarà un altro attacco di un'altra dropship fantastico qui c'è un punto di rifornimenti cattiamo su tutto perfetto c'erano un po un po di energia per la tuta qui stiamo sulla destra eh si qua c'è l'accesso e qui bello qua c'è un pezzettino qui falcidiamo questi due coglioni qua qui adesso dobbiamo assolutamente abbandonare momentaneamente la buggy perché dobbiamo assolutamente e la madonna anche qua arrivate rompi coglioni qui dobbiamo salire qua su figa che fucilazza questo qua dio bono mi fa bene del danno è che contiene poche munizioni il caricatore infatti sono già secco qua dobbiamo andare su dobbiamo andare a manovrare assolutamente la gru vedete col magnete perché dobbiamo trasportare la buggy portarla su eh qua dove sono queste passerelle qui se no non riusciamo ad andare oltre adesso però qui è qui qui è bello qui c'è da fare un po di ah cazzo questi stronzi qua adesso arrivo arrivo cazzo adesso sistemiamo noi questi coglionazzi qua adesso andiamo a manovrare la gru quindi tutto con la gru possiamo fare questo possiamo possiamo eh così calate il braccio però prima di andare a recuperare il buggy guardate la fisica mamma mia la fisica è impressionante qui possiamo fare un po' di robina possiamo fare guardate cosa possiamo fare possiamo fare questo possiamo fare eh tanto abbassiamo il ponte ma possiamo anche falcidiare questi cazzo di combine qui eh se riusciamo perché eh però c'è tanto che non riusciremo a farli fuori quelli lì adesso vediamo no tanto il ponte l'abbiamo il pontile l'abbiamo assolutamente adesso dobbiamo vedere dove cazzo è la buggy dove l'abbiamo lasciata la buggy dov'è eccola là perfetto se andiamo a manovrare eh eh l'abbiamo lasciata troppo distante no forse eh sì eh sì purtroppo l'abbiamo lasciata troppo distante dobbiamo andare intanto facciamo tavola rasa qua questi combine qui via fuori dai coglioni cazzo ce n'è via perfetto andiamo a spostare leggermente la buggy che purtroppo è troppo distante per ancorarla con col magnete eh bravo 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 Gordon figa ragazzi mamma mia mi sono spaccato le rotule ma vai fuori dal cazzo eeeh dai però norther petrol sì in realtà potevo fare degli altri versi eh con la grua però vabbè ma che cazzo fai ok adesso agganciamo la buggy e ce la portiamo dove cazzo vogliamo qua attenzione ce la portiamo qua boh perfetto ce la siamo sganciata lì e adesso torniamo alla guida sì ragazzi è il flight 2 mamma mia cioè ragazzi vi rendete sì e no conto sì o no di quanto sia un capolavoro che gioco qua cioè ragazzi mai avete capito dopo 4 5 6 ore di gameplay eh però ragazzi Gordon eh ma qua sono un coglione io qui ho lasciato ho lasciato attaccato il magnete sono un perfetto idiota perfetto idiota eh ho lasciato attaccato il magnete cazzo un coglione da su Gordon porco dio dai alza quel braccio da figa lì boh perfetto siamo oltre il aperto qui dobbiamo assolutamente aprire il portone manualmente manualmente qui c'è la cabina di controllo fornimenti carcelli di energia perfetto boh boh subiamo oltre falcidiamo tutto e tutti qua sfondiamo le vetrate boom e via è uno spettacolo è uno spettacolo unico quel gioco qua è incredibile ecco lì c'è un'altra dropship come vi dicevo prima turbo via e adesso qui dobbiamo assolutamente cazzo esatto faccio dei missili guardate che spettacolo quello scontro a fuoco qua quel gioco qua è una godura unica vedete che lui può poi può intercettare i nostri missili perfetto andato mamma mia mamma mia che roba no Gordon che cazzo fai si è bagato tutto qua tanto abbiamo la gravity qui dovete fare così dovete farvi strada ma che roba mi rendete conto ma che roba cioè vi spazzatevi i relitti delle automobili fuori dei coglioni con la gravity gun è incredibile ma dove cazzo lo trovavate nel 2004 un gioco che vi dava queste possibilità qui non esisteva assolutamente semplicemente non esisteva via proseguiamo sono dei rifornimenti semplicemente non esisteva niente del genere via proseguiamo il nostro tragitto sulla costa un altro tunnel vai col turbo e vai col carichino eh ragazzi spettacolo spettacolo puro beh qui ci sono ci sono quelle le sfere lì magnetiche che vi rompono il cazzo lì se vi si attaccano addosso la buggy eh vedete succede questo succede ecco qui tra l'altro qui dovete fare così pom e ve le levate dei coglioni eh tra l'altro come toccano l'acqua esplodono tanto adesso ci leviamo dal cazzo questi combine qua a suon di piombo a suon a suon di piombo guarda che spettacolo pum eh fiii qui raccattiamo su un po' di roba qui ho volato giù tutto ma qui possiamo andare oltre adesso guardiamo un attimo qua dentro un attimo che rovi materiali c'è le energie per la tuta molto bene se mi ricordo bene c'è un'imboscata e si eccoli qua che arrivano eccoli qua eh ha tirato una granata quello lì boh no ce n'è un altro ce n'è un altro sembra bene proseguiamo ma che roba qui c'è un altro posto di blocco dobbiamo vediamo se riusciamo a farci strada con la gravity gun si vediamo se c'è qualcosa eh la balestra il balestrone la balestra che spara i dardi arroventati vedete è un fucile da cecchino praticamente è un fucile da cecchino ok qui direi di avvicinarci un po' all'avvicinarci e poi eh qui non potete qui dovete disattivare il campo di fuori guardate che belli questi campi di forza qua dobbiamo avvicinarci e andare a disattivare il campo di forza guardate qui sento che ci sono delle altre e qui potete anche roba cazzo cazzo ma non ne prendo uno ma fuori via guardate che spettacolo pum eh vacca che roba che roba medipack non c'è niente eh vedete il posto di blocco vedete che il posto di blocco è alimentato grazie a questo cavo qua di luce di corrente elettrica che a sua volta è collegato a questo tank qui eh guardate che spettacolo eh via tiriamo via i fermi via la motoretta avanza sotto il peso ta si stacca il cavo la motoretta se ne va a fanculo boh basta ne avete disattivato il campo di forza mamma mia che spettacolo quel gioco qua che spettacolo è uno spettacolo ma qui c'era c'era anche un medipack qua dietro c'è qualcosa no bene possiamo proseguire perfetto via un altro tunnel adesso vediamo quanto siamo arrivati un minutaggio qua le sono dropship ma non c'è un cazzo allora quanto siamo arrivati 23 minuti dai ancora una mezz'oretta ancora una mezz'oretta e poi interrompiamo quest'ora qui adesso qui qua ci sarà un po' di bordello giatto pura eh ci ha ucciso ci ha ucciso come degli stronzi eh non abbiamo più un cazzo di armatura per per la tuta questi qui fan del danno eh qui soldati qua soldati speciali eh combine fan del danno eh in realtà possiamo anche stare eh no ma qui no però si può fare si può fare si ma noi adesso qui ci diamo rifornimenti eh un po' di rifornimenti per la tuta che non fanno mai male in realtà io non sto usando la balestra ma in teoria dovrei in teoria dovrei però a me la balestra non è che mi sia piaciuta poi più di tanto non è un'arma che mi fa impazzire la balestra di half life 2 però adesso abbiamo un po' di eh eh sì qui dovete andare giù di qua vediamo se riusciamo a sfruttare un po' beh forse sì perfetto se li siamo allevati del cazzo adesso però lì se mi ricordo bene qua innanzitutto qui si può andare vedete vedete guardate che cosa potete fare quando riuscite a farlo adesso qui ho fatto una cazzata io ma in realtà io mi piglio sta cazzo di panchina qua e qui potete fare quello che cazzo volete eh toh eh pentacolo eh date su fate qua potete no però non si può fare eh balestra balestra no cazzo di budda sti qua a regola non si può anche non si può anche sul cazzo questi qua o guardate quante energie che ci hanno ma quante energie ci hanno madonna ma ce n'è un altro no ma qui in realtà non c'era un cazzo allora ah no qui c'era la balestra perché comunque mi dà la possibilità di recuperarla anche qui però se io mi butto dentro il cammino qua no no in realtà stavo cercando il passaggio beh ma qui facciamo così eh ci spezziamo le caviglie però eh qui c'è il pezzo del ponte eh sì c'è il pezzo del ponte molto bello questo pezzo qua molto bello eh sì questo pezzo qua è valido sentito il vento va che roba qua dovete passare sotto il ponte mamma mia e qui io che soffro di vertigini è sempre stato un punto molto molto guardate che spettacolo i gabbiani che volono guardate che roba c'è ragazzi ma come cazzo si fa a non a dire che un gioco qua non è un copolavoro ma ancora adesso eh qui bisogna fare un po' di salvini un po' di salvini manuali perché perché qui si rischia di cadere giù di crepare come dei coglioni eh allora qua però devo andare giù stavo già sbagliando eccoci qua qui saltiamo qua ma che roba qui ci sono i nostri amici succhioni è qui c'è un attimo da farsi venire un infarto qui mamma mia figa ok ah signor eh non sprechiamo però i medipack perché adesso qui fra un po' qui c'è il treno sta passando sta passando il treno sopra il ponte che vibra tutto fantastico adesso adesso dobbiamo proseguire verso quell'altro pezzo là mamma mia mamma mia e si sono freddo di vertigini come me questo pezzo qua vi darà un po' fastidio eh salvino che qua adesso non mi fido del salto che dovrò andare a fare adesso potrei fallirlo miseramente quindi perfetto ce l'ho fatta la ci sono dei medipack che adesso non mi servono andiamo su questa cabina qui altri medipack eh qui vi da i razzi perché adesso fra un po' ecco adesso qua eh forse è un buon momento per usare la balestra qui la balestra cazzo però dai combine fatti vedere cazzo ma come come stanno nascosti ho preso preso qui andiamo a coppare i nostri succhioni e qui adesso bisogna andare su ma in realtà mamma mia eh no vogliamo passare di qua eh no ma in realtà qui passare da qui eh secondo me no si può si può si vi taglia via un pezzettino perfetto perfetto oh che palle stied crap di merda qua guarda che roba io li odio li odio perfetto perfetto l'altra parte mamma mia e qua è qui qui c'è da fare un altro salto mamma mia vediamo salvino ancora va ci ho rotto un po' di un po' le caviglie ma ce l'abbiamo fatta qua un po' di roba qui siamo dall'altra parte ora cattiamo su ah beh ma in realtà sono sono al massimo ok ok niente torniamo di là adesso qui c'è un arriva una una gunship se mi ricordo bene sì sì via che spettacolo che spettacolo cos'è qua è spettacolare è spettacolare mamma mia andiamo su di qua andiamo su qui siamo sulla passerella di prima dall'altra parte tra l'altro qui ci sono sede rifornimenti che ci sono un po' di bombole di gas ma adesso non lo utilizziamo mica andiamo avanti con la forza brutta assolutamente l'altro che spettacolo lì c'è un campo di contenimento cazzo eh qui ho sbagliato io qui ho fatto una cazzata io guardate che spettacolo qui c'è il campo di contenimento però voi avete la vostra fidata gravity gun e stacchiamo la spina eccezionale eccezionale figa eccezionale quel gioco qua mamma mia che ricordi facciamo il pieno perfetto attiviamo il meccanismo qui falcidiamo con la balè eccola qua che è arrivata la dropship e adesso qui dobbiamo mutarla giù eh adesso pian pianino vediamo se riusciamo a buttarla giù stando qua eh perché poi eh ci ha colpito il razzo ci ha colpito il razzo e vediamo beh cazzo però Gordon porco dio Gordon che è handicappato eh mi sa che qui ne non abbiamo più non abbiamo più un cazzo adesso qui ho fatto una cazzata io qua dai staccati ecco io ho sbagliato io meno male che ci sono quei midi pack qua diamo un salvino manuale evitiamo di dover ripetere tutto eh nel caso ci ci ammazzano qui eh perché purtroppo dobbiamo andare sulla parte del pontile dove ci sono le munizioni dove ci sono i razzi per l'RPG perché dobbiamo buttare giù la dropship eh cioè la gunship e adesso qui passiamo di qua assolutamente esatto qui abbiamo un altro salvino di qua sono passaggi un po' delicati eh sono passaggi un po' delicati e adesso qui dovete un po' spediti tornare giù qua cazzo eh vedete eh cari miei eh qui figa questo qua è un pezzo difficilotto eh pezzo difficilotto sto qua boh torniamo su cazzo Gordon ecco qua ci sono i missili e adesso e adesso cerchiamo di buttare giù questa cazza di dropship qua perfetto perfetto fornimento boh è andata perfetto adesso però eh adesso però non mi ricordo assolutamente dove cazzo devo andare diamo un salvino non mi ricordo mica più dovevo andare devo tornare su da dove siamo arrivati eh sì probabilmente sì perché sì sì vediamo se riusciamo a passare un po' figa ragazzi questo punto qua questo pezzo qui ma siamo sicuri che devo passare di qua mamma mia figa Gordon sì sì è qua qua ma che roba mamma mia figa ragazzi quei salti sono una roba ma dove cazzo devo andare qua no ma qua sono tornato indietro qua sono tornato indietro eh o forse no no ma no no è giusto è giusto è giusto è giusto dovrebbe essere giusto adesso io sono tornato di qua adesso qui sì 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 e la madonna cazzo facciamo di massacrare un po' da sole che stanno combattendo contro gli insettoidi esatto adesso qui noi abbiamo praticamente distrutto le dropship la dropship la gunship però abbiamo anche aperto dobbiamo andare qua noi però dobbiamo prendere un po' di rincorsa perché sennò qua qui adesso c'è un altro pezzo dobbiamo lì c'era lo scudoli qua adesso fra un po' arriverà il treno dobbiamo dare un'accelerata che spettacolo quel pezzo lì mamma mia che roba bene bravo Gordon qui cosa c'è? un cazzo via andiamo oltre adesso ormai adesso interrompiamo adesso interrompiamo perché ecco qui siamo arrivati nella parte desertica poco prima di raggiungere qua faciliamo la zombie cazzo successo qua cos'è quel rumore qua? qui si è buggato qualcosa qui siamo arrivati praticamente al pezzo delle lande deserte che è praticamente antecedenti a Nova Prospect qui apriamo e facci diamo un po' di coglioni figa anche voi mi state sul cazzo però ma molto madonna mia e allora è qui adesso c'è tutta questa rata maglia qua sul tragitto e dobbiamo qua dobbiamo come prima via fare spazio guardate che spettacolo gravity gun via ci facciamo spazio mamma mia non ho parole non ho parole via usciamo dal tunnel e direi di piantare lì perché qui adesso c'è tutta la fase andiamo a lasciare la buggy non ancora adesso non ho parole fatemi controllare quanto siamo 51 minuti andiamo avanti ancora 5 minuti poi piantiamoli poi ci interrompiamo facciamoci questo cazzo di avamposto qui via sentite la colonna sonora sentite la colonna sonora che spettacolo rumore di fondo che spettacolo vedete che roba mamma mia mamma mia ma io non ho parole c'ho la pelle d'oca diciamo così ah no non ne ho più ma come non ne ho più non ne ho più che spettacolo mamma mia questo qui è uno dei giochi più belli che siano mai stati fatti c'è da quando esistono i videogiochi ma qua cosa c'è balestra qua adesso ci lanciamo fuori dalla finestra male vatemi dai cazzo le sfere di merda qua guarda che roba guarda che roba pum fuori dalla finestra che spettacolo mamma mia che spettacolo di gioco questo qua che spettacolo proseguiamo ecco ecco qui c'è un posto di blocco ci facciamo il posto di blocco poi piantiamo lì fighi che avete rotto il cazzo spettacolo 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 che spettacolo spettacolo dove è l'interruttore? ancora qua ah là in alto ora cattiamo su tutto l'energia scudi guardate che spettacolo guardate che spettacolo guardate che roba guardate che roba no ma ma io mi sono ammutolito perché sono assolutamente soprafatto della magnificenza di quel gioco guardate le superfici traslucenti di queste strutture qua guardate che roba guardate che riflessi guardate che riflessi no no chi mora eh c'è la scala qui ma dove cazzo no ma in realtà non c'è nessun interruttore da premere qua ma no ma no non c'è nessun campo di forza è sufficiente passare con la buggy adesso qui ce la sdroppiamo un po vediamo quanto siamo eh 57 minuti boh sfondiamo col posto di blocco qua poi interrompiamo c'è un pezzo di strada rotto che ha ceduto ecco eh qui siamo arrivati all'altra base dei ribelli siamo di qua ecco siamo incuniati bene ragazzi qua adesso arrivano le dropship ma qui devo interrompere perché devo interrompere andiamo avanti col prossimo clippino perché qui siamo arrivati a 58 minuti e mezzo vi rimando assolutamente al prossimo clippino che qua ci sarà un altro scontro a fuoco della madonna spettacolo bene vi rimando alla prossima parte grazie grazie